E' bello a tutti ragazzi, oggi siamo in questo nuovo video dove vi farò vedere delle cose spettacolari sull'easbox, quindi vi dovete comprare l'easbox, non la play, la play fa caca, guardate questa mod, sono tutte in pagamento però sono bellissime, io mi devo comprare questa, io amo le macchine, io sto morendo, sto morendo, la voglio. Poi ci sta quest'altra mod degli aerei, degli aerei, mamma mia, io moro, poi mi sono comprato una texture, c'è una cosa dove praticamente, non lo so se c'è, non so dove l'ho preso, i mondi, crea un nuovo, eccolo, Super Richards, ecco. Abbiamo il modello di mondo in corso, vediamolo insieme, avventura, pacifica, si, vabbè, vai. Crea. Sto reagendosi a telefono e sto a spingere sul joystick dell'easbox, mamma mia l'easbox si che è meglio della play. Generazione del mondo, perfetto, poi ragazzi vi farò dei video, altro che sua play a serie città, se alcuni dei miei amici si comprano un easbox tipo pasquale a serie città la continuo qua, non la sua play. Puoi essere i vampiri, sicuramente c'è Samod dei vampiri. Oddio raga, oddio mio, oddio. Aspetta, c'è il composto dove reggere lo schermo, c'è lo schermo, il telefono. Eh, però si vede un po' lontano. Vabbè, non fai niente che sia un po' lontano. Basta che si vede. Aspettate, eh. Ok. Ok, perfetto, lo vedete? Un attimo che passo io davanti. Ok, lo proviamo insieme. Che cos'è sta roba? Ok. Che figata questa skin. Mamma mia. Ma ci sono veramente le macchine. La facciamo vedere le macchine. Press button to select race. Ok. Oh, 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 oh. No, la moto. La moto, assolutamente. Che cos'è il go-kart? Oddio. No, no, raga, io veramente così muovo. No, veramente. Voglio questa. Ah, la kelly e le chiave, è vero? Me lo so ricordare. No, la kelly lo sapevo che erano le chiave, però. Dov'è la mia moto? Cosa devo fare? Ah, ok. Go. E' nel modo? Ma che devo andare io così a piedi? Ma... Aspettate. Dovrebbe essere la moto. Dov'è la moto, raga? Ma non è che sta là sopra? Aspettate, eh. Questa cosa è veramente strana. Vabbè. Me lo faccio un po' a piedi. Poi si vedrà. Perché a me ne serve la moto. Cioè, dov'è la moto? Fa' il culo, volevi? La mia moto... Ma che plan? Ah, forse qua... No. Vai! Come faccio? Ecco. Tac. Ma che cosa si deve fare con la moto? Ah, ma la devo spawnare io! Meno male, golletto. Ora faccio il dito da dietro, aspettate. Oddio. Ok. 3, 2, 1, via! Andiamo... Un dito! Ecco, adesso si, infatti. Che figata, cioè... Sto guidando la moto. No! È in moto. Ok. L'uscita... L'uscita... Troppo bella l'isbox, raga. Ah, che bella moto! Ah, vabbè, certo, una moto in penna, eh. No, veramente, non so, scusa. Sì, ma questa... Sì, ma questa è in penna come... Non si sa come. Oddio. Ciao! Cioè, non dite che non sembro Luke 4316 o Mario. No, no. No, no. Wii! Che bellezza! No! Wii! Troppo figo! No! Ok. Raga, veramente, è troppo bello. Poi ci sta anche la moto dei dinosauri, della città, appunto, degli aerei. Cioè, io sto a morire per la felicità, raga, veramente. Domani shoppo 20.000 euro. Qua sull'isbox. E penso che sulla play non ci ritornerò mai più. Cazzo! Sto incoglianito. Wii! Oddio. No, è riserva. Sciù! Ma quanto cazzo è lungo sto percorso? Accelera, no, no, no. Quanto so' un figo. Con sta moto. Cioè, non sono proprio delle mod. Praticamente, lui ti fa entrare nei mondi. Nei mondi. Invece no che tu crei un mondo e ci metti le mod. Sì, è quasi finito. Facchio. Sei... Ho finito. Che bellezza. Doro. Ma sono arrivato l'ultimo. Cioè, non lo so. Do. Ah! Ah, queste sono le piste. Le piste. Infatti, me ne fa vedere. Sto incoglianito prima, io non le ho viste. Eh, questa rossa sembra difficile. È purifica. Proprio difficile o no, è stata questa qua blu. Voglio fare questa qua verde. Le faccio un po' per uno. Oddio, la motorosa. Ma... L'aereo. Ma vola. Provo l'aereo e poi... Provo il gogato. Se vola l'aereo, porca troia. No, no, l'aereo non vola. No, non vola, che palla. Fa dei sbalzi se vuoi. Eh, però va parecchio veloce. Oddio. Che figata! Non ti ho boccato! Non stavo a vedere la strada. Stavo a vedere il telefono. Ragazzi, tutti quelli che si guarderanno sto video e avranno una console diversa da l'isbox, vendetevele, compratevi l'isbox, mamma mia. Soprattutto se vi piace Minecraft. E poi sull'isbox si resta pure un gioco, Battlegrounds, e pure un altro che si chiama PixArk, che sarebbe Ark, Survival Evolved e Minecraft messi insieme. E esiste solamente sull'isbox e sul pc, e pure Battlegrounds, esiste solamente sull'isbox e sul pc, quindi l'isbox è il meglio della Play. La Play, in confronto all'isbox, ne manco una seta. Vabbè, la Sony, la Sony, cioè quelli che hanno creato la Play, sono giapponesi, quelli che hanno creato la, come si chiama, l'isbox, mi pare che sono americani. I americani sono più fighi e più intelligenti. Ciao! Un po' difficilino. Mamma! Mamma! Mi serve da sciopare? Perché sull'isbox ci sono delle modda fighissime! Mamma! Come no? Ti prego! Oddio, raga, devo sciopare per forza. A ogni costo. Poi non so, comprate la macchina da cucitrice, per un cazzo, perché è una merda. Non so, accorto dopo che l'ho comprato. Che bello. Porco giuda, corri! Corri! Corri, forest, corri! Magari volasse l'aereo. Vabbè, in quel mondo sicuro vola. Finito. No, l'ultimo giro! No, no, basta, mi sono stufato. Teoria, se la picchio si rompe. Teoria. Che cazzo di vita c'ha? ma che? avanti basta sono rotto e sono rotto ricordi 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 la voglio lo voglio ragazzi un attimo anzi no non un attimo direttamente vi saluto quindi noi per questo video ci salutiamo ricordatevi di comprarvi l'easebox che è meglio della play un saluto da Emanuele e al prossimo video bella bella